Doppia comunicazione di Bleacqua e S.P.A. per la città di Modica. Questa volta al centro dell'intervento della società, la comunicazione che ieri a seguito della rottura della condotta di collegamento della sorgente Caffeo a Costa del Diavolo, si sarebbero potuti verificare disservizi nell'erogazione idrica. Le zone interessate, aveva spiegato i Bleacqua, sono Modica Alta, il quartiere dente e Modica Basse. I tecnici di Bleacqua e S.P.A. sono al lavoro per garantire al più presto il ripristino della conduttura saltata. Sulla stessa conduttura evidentemente erano già previsti, come da comunicazione precedente, attività di manutenzione straordinaria che avrebbero provocato nella giornata di oggi disservizi per quanto riguarda l'erogazione idrica, le zone coinvolte, ovviamente le stesse. Insomma, tra siccità condotte con rotture improvvise e manutenzioni straordinarie, i problemi idrici nella città di Modica restano una costante in un'estate di sacrifici che non accenna a diminuire la propria portata, e non certo idrica.